Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi parlo del Figlio Vendicatore, uno degli ultimi romanzi dell'Ara Nera Edizioni che vi ricordo essere un'idea editoriale tra le più geniali e veramente che mi stanno a cuore a livello nazionale, a livello italiano perché da tanti anni, fin da quando venivano pubblicati da altri editori, non si vedano più romanzi di Warhammer, né Fantasy, né Age del Vecchio Mondo, Age of Sigmar o 40.000 in Italia e tante serie che al tempo andavano anche abbastanza bene, sono arrivate al secondo e terzo numero, tipo La Sporca Dozzina, sono state interrotte. Alan Nera Edizioni ha ripreso tutti i nuovi romanzi che stanno uscendo direttamente dalla Black Library della Games Workshop e li sta portando in Italia tradotti nella nostra lingua. E ne sono già usciti una decina che vanno a comprendere una parte di Gotrek e Felix, quindi collegata al Vecchio Mondo, Warhammer e Age of Sigmar, ma soprattutto Warhammer 40.000. E oggi vi presento uno dei loro ultimi romanzi tradotti che è Il Figlio Vendicatore, un romanzo che parla della nuova crociata Indomitus guidata da Robot Gilliman in un romanzo che mi ha colpito, a parte qualche difetto che vi dirò alla fine, mi ha colpito veramente molto e spero che ne faranno tanti altri di una serie. avvenire. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Il Figlio Vendicatore, Alan Nera Edizioni, è un romanzo che parla della nuova crociata Indomitus portata dall'Imperium e soprattutto guidata dal Figlio Vendicatore che, niente po' po' di meno, che Robot Gilliman, uno degli ultimi, anzi, notoriamente che si sappia, l'ultimo Primarca ancora in vita, ce ne potrebbero essere altri, tipo Leman Russ disperso nell'occhio del terrore, non si sa dove però, al momento è l'unico Primarca che si è risvegliato da 10.000 anni di stasi, perché gli Space Marine, soprattutto i Primarca, ma tutti quanti gli Space Marine hanno un sistema che quando ricevono una ferita mortale, direttamente il loro organismo potenziato li manda in stasi. Ovviamente se muoiono, muoiono. Però, ad esempio, se hanno una tossina in giro per il corpo, o come nel caso di Gilliman, che è stato sgozzato dalla lama di Fulgrim durante l'eresia di Horus, magari c'è una fuoriuscita di sangue, mandandolo in stasi si riesce a bloccare appunto la fuoriuscita. Però poi ha bisogno di cure immediate per essere riportato in vita. E nessuno può riportare in vita un Primarca che non sia un genio, un Magus del più alto livello, dell'Adeptus Mechanicus, perché hanno un organismo che non è più umano, hanno due cuori, vi ricordate di Space Marine e tutto quanto. Quindi ci vuole una tecnologia e una conoscenza che, soprattutto, l'Imperium non può avere e si devono affidare all'Adeptus Mechanicus. Perdonate che non ho il libro da mostrarvi, però ultimamente, lo dico, sinceramente, sto avendo un po' di problemi alla vista e, soprattutto, capogiri e vertigini. Quindi, l'Alanere Edizioni mi stava mandando tutti i romanzi cartacei, gli ho detto di mandarmeli in ebook. Stranamente, se leggo da Kindle o da telefonino, non mi gira la testa. Se leggo dalla carta, forse anche per la luce che ci batte sopra, mi si intrecciano gli occhi e mi inizia a girare la testa. Quindi, non ve lo posso presentare. Comunque, nel corso del video vedrete immagini, montaggi e tutto quanto, anche lo stesso libro, che vi ricordo potete ordinare direttamente dal sito di Alanere Edizioni. Primo link in descrizione. E guardate, secondo link in descrizione, ho dato in descrizione il mio codice sconto. Mettendo quel codice sconto, quando farete un acquisto dalla Nere Edizioni, le spese postali saranno gratuite. Non è uno sconto direttamente sul romanzo, ma vi leva totalmente le spese postali. La crociata Indomitus, che poi è anche il tema del nuovo Warhammer 40.000 della scatola di base da una parte Ultramarine e da quell'altra parte Necron, è la nuova crociata che il Primark ha risvegliato, figlio dell'Imperatore, tanto che ne porta anche la spada fiammeggiante, Robot Gilliman, sta portando avanti contro Abaddon, che Abaddon è il, sì, possiamo dire il figlio prescelto di Horus, o comunque chi ne ha preso, chi ne fa le veci e sta portando avanti una crociata da 10.000 anni, per ovviamente finire il lavoro che il traditore suo padre non riuscì a portare a termine, perché venne ucciso durante l'eresia di Horus. E il Warp si sta risvegliando laddove alcuni pianeti, pianeti colonne, che lo tenevano un po' a bada questo Warp, sono stati distrutti e annientati, e quindi il Warp dilaga a mo' di tentacoli che vanno a connettere una faglia dell'Immaterium con l'altra, tirandole delle righe fra una e l'altra, connettendole, e quindi il Warp si sta estendendo in tutta la galassia. E c'è una faglia molto importante che ha diviso la galassia, o per meglio dire l'Imperium nella galassia in due, e quindi c'è l'Imperium Santus, che è quello sotto il dominio di Terra, della Deptus Mechanicus e di Gilliman, e il nuovo Impero Nihilus, di cui si sono perse tutte le tracce. Quindi non si sa se nella parte di là dell'Imperio Nihilus, ma c'è ancora un Impero, c'è ancora l'Imperium, ci sono ancora gli Space Marine, non c'è contatto né telepatico, tramite ovviamente messaggi mandati dagli Astropati, né tantomeno è possibile visitarlo, perché nessuno riesce a trovare la luce dell'Imperatore, l'Astronomican, quindi nessuno riesce a navigare oltre questa faglia per andare a vedere cosa c'è di là. Chi ci ha provato, se è perso, è rimasto all'interno del Warp, l'Imperium, è stato divorato e distrutto dai demoni, e quindi ci sono flotte intere, perse alla deriva e ormai contagiate dagli dei del caos. Questa è la prefazione al romanzo Il Figlio Vendicatore, che a me è piaciuta veramente tanto, per quanto non è un romanzo di guerra, ed è strano, perché nell'oscurità dello spazio e del 40.000 c'è soltanto guerra, cioè ci sono due scontri in tutto il libro, non c'è guerra, non ci sono grandi battaglie, a parte, ve l'ho detto, qualche scaramuccia, però vi fa vedere tutta la storia di come Gilliman è stato riportato in vita, da Belisarius Cole, che è l'Archimagos di Marte, dell'Adeptus Mechanicus, che segue l'Omnissaia. E poi fa vedere anche, bellissimo, questo mi piace da morire, perché nel regolamento di Warhammer, che ci sono cento e passapagine di lore, che vi consiglio di acquistare anche solo per la lore, questa cosa non era discritta a fondo. Vengono discritti molto bene i Marine Primaris, che sono nuovi Space Marine più grandi, più robusti e più forti di quelli normali, che hanno l'armatura Mark X, e che l'Adeptus Mechanicus e Belisarius Cole, sotto ordine di Gilliman durante l'eresia di Horus, hanno avuto 10.000 anni per essere sviluppati. Ed è bello perché questi Primaris sono molto più forti dei Marine normali, e sono anche più alti, perché uno Space Marine è alto 2 metri 50, 2 metri 60, un Primaris è alto 2 metri 80, 2 metri 90, arriva quasi a 3 metri. Contate che un Primarch è alto 4, quindi comunque sono, sono dei bei bestioni. Ed è bello che fa vedere che sono guerrieri, un po' come Star Wars, no? Le Guerre dei Cloni, sono guerrieri formidabili, ma non ancora pronti alla battaglia, perché non sono mai stati addestrati nel campo. Sono stati per 10.000 anni stasi, con dei programmi, l'Adeptus Mechanicus nella testa gli ha simulato delle battaglie e tutto, e quando le butti nel campo di battaglia sono forti e sanno combattere bene. Però, per quanto seguono perfettamente il Codex Astartes, non sanno improvvisare. E lo sapete bene che lo Space Marine si salva a volte improvvisando. Loro no. Se la missione dice vai dritto e i Necron vanno combattuti in corpo a corpo con le spade a catena, loro così fanno, a costo di essere falciati tutti. E quindi sarà impegno del Capitano Vitrian Messinius dei White Consul, sotto ordine e braccio destro di Robot Gilliman, il Primarcha, direttamente, a destrarle e tutto quanto. Quindi questo Figlio Vendicatore è un romanzo molto, molto, molto bello che più che le battaglie ci fa vedere come parte la nuova ambientazione. Warhammer 40.000, ultima edizione, è arrivato qui, da qui in poi si continua con la nuova edizione. Ed è veramente molto interessante. In conclusione, un romanzo assolutamente da comprare, da non perdere. Avete visto un po' di immagini mentre vi parlavo di queste cose. Sia chiaro, usate il codice discount che trovate sotto il primo link, così da non pagare le spese postali. È veramente un bel romanzo. Mi è piaciuto 8 su 10, perché avrei voluto un pochino più d'azione, però è un romanzo di intermezzo che serve a farti capire qual è l'ambientazione. Perché se no, poi in tutto quello che verrà, ti dirai, ma com'è partita sta roba? La crociata Indomitus. Cioè, ci sono troppe informazioni che ti bombardano il cervello e poi non vai a connetterle. Invece questo romanzo fa da apripista, ti racconta tutto quanto, e quindi, insomma, fa... Non si basa tutto sulla guerra, ma sulla storia che poi dopo porterà alla guerra. Consigliatissimo. Ringrazio Alaner Edizioni, ovviamente, per avermi fornito le copie in ebook, perché, ripeto, me le avrebbero mandate fisiche, ma non ho più l'occhi per leggere dalla carta. La vecchiaia porta anche questo. E, assolutamente, un'impresa editoriale, secondo me, senza precedenti, e, ancora una volta, grazie per quello che state facendo, veramente, perché io mi sono letto tanti romanzi in inglese della saga di Warhammer e, se non fosse per voi, in lingua italiana, non l'avrei mai letti. Quindi, continuate così, pieno appoggio da parte mia, pieno supporto e da tutti i fan di Warhammer, sicuramente altrettanto. Ma lo dimostrano anche le vendite. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi, guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!